Siamo insieme ad Alessia Sganca, vincitrice del torneo femminile terza categoria a Memori Alpino-Graziano-Rosario Barone. Una vittoria netta contro Alessia Massimilla. Sì, è stato un torneo abbastanza, tra virgolette, facile, però le bersaglie, devo dire, che erano comunque brave. E io ho giocato molto bene, sono riuscita sia a servire bene che a giocare il mio colpo preferito, che è il rovescio. E anche il dritto, diciamo, è andato abbastanza bene. È un campo conosciuto, quello di Vibbo, hai già giocato altri tornei? Sì, avevo già giocato altri tornei, sia da piccola che, diciamo, qualche anno fa e mi sono trovata sempre bene come circolo. Com'è giocare in questo 2020, contrassegnato dal coronavirus? Eh, beh, sicuramente è molto più brutto degli anni scorsi, perché si fanno meno tornei ed è meno, diciamo, è più organizzata, però è sempre, diciamo, brutto dover seguire delle regole abbastanza pesanti, però si continua sempre a giocare. Una giocatrice, una tennista alla quale ti ispiri? Vabbè, la mia preferita è Serena, però anche le altre sono da ammirare sicuramente. Progetti, obiettivi per il futuro? Eh, vabbè, tantissimi altri tornei, migliorare sempre di più e scalare di classifica sicuramente, passare in seconda categoria. Ok, grazie Alessia Sganga, vincitrice del torneo femminile terza categoria, memoria Alpino Graziano Rosario Barone, che si è giocato qui a Vipo Valencia. Grazie. Grazie a voi.